Intanto benvenuti a tutti, siamo a Bari, quindi nella culla dell'olivicoltura pugliese, olivicoltura che sta vivendo una fase di intenso rinnovamento, per cui abbiamo pensato che fosse il momento ideale per fare anche un po' il punto della situazione innescata, diciamo così, dalla xilella, per cui faremo un po' il punto sullo stato attuale della ricerca, sul batterio, e sulle potenziali nuove varietà resistenti, nonché le ultime varietà disponibili sul mercato per i vari modelli di impianto che si possono studiare, intensivi e non. Cercheremo di fare il punto anche con dei numeri, insomma, per vedere quanto questa rinascita sta avendo luogo, con gli ettari che sono stati reimpiantati, quanti, come sono stati finanziati, se ci saranno possibilità di ulteriori finanziamenti. Abbiamo quindi chiamato, insomma, il meglio della ricerca, dall'Università di Bari al CNR di Bari, coinvolgendo ovviamente anche la Regione Puglia, per cui io non ho avuto modo di vedere le presentazioni, per cui sarò molto curioso di vedere qual è la situazione, come ho avuto modo di parlare con i relatori, io ho un passato di ricerca sull'olivo, che però risale ormai alla fine degli anni 90, quindi sono passati 23 anni e sono curioso anche di vedere come è cambiata, se è cambiata la situazione. Abbiamo dei tempi un po' stretti, per cui cercheremo di velocizzare soprattutto la mia introduzione, che è la cosa che interessa di meno. Io sono comunque Francesco Bartolozzi, faccio parte del gruppo Edagricole Tecniche Nuove, Edagricole Marchio Storico Bolognese, editore di riviste e libri per l'agricoltura. Penso abbiate preso la scaletta, la locandina, insomma con la scaletta, per cui inizieremo con il professor Salvatore Camposeo, del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, seguirà sempre del Dipartimento Scienze, Suolo, Piante e Alimenti, Alessandro Vivaldi, il professor Vivaldi, dopodiché sarà la Regione a fare il punto sulla diffusione dell'Axilella con il dottor Francesco Palmisano e Giovanni D'Amato e concluderemo, vedendo un po' anche la resistenza genetica all'Axilella, che appunto è con il dottor Donato Boscia dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Bari. Spero avremo poi in fondo la possibilità di fare anche un minimo di dibattito, se ci saranno delle domande. A questo punto invito il professor Camposeo con la prima relazione sui nuovi modelli culturali arbori per gli areali infetti e novità varietali in olivicoltura. Buongiorno a tutti, grazie Francesco, grazie da agricole per questo invito, saluto tutti i colleghi, gli studenti e le persone oggi intervenute. La tematica assegnata è quella che vedete alle mie spalle, che è stata già annunciata. Questa è una foto anche non aggiornata, anche perché non ne ho trovata, perché sul sito c'è ancora quella del 2016, quindi ho salvato questa qui. Sapete la situazione negli areali pugliesi della diffusione di questo simpaticissimo batterio. Ovviamente non si può fare più olivo, poi parleremo delle eccezioni, ma se gli imprenditori voressero cambiare invece di continuare a fare olivo là dove l'olivo ormai è morto, potrebbero farlo, ma certo. Tant'è vero che c'è il distretto agroalimentare Ionico-Sarentino che ha finanziato un progetto pluriennale. Nell'anno di questo progetto abbiamo una serie di, una ottantina di imprenditori delle tutte e tre le province Ionico-Sarentine, le quali sono state intervistate. Nessuna di queste 80 aziende intende rimettere olivo in Sarento. Nessuna. Nessuna. E quindi sulla spinta di questa, come dire, Vox Populi, ci siamo messi al lavoro, grazie a questo finanziamento. E abbiamo detto, ma se dovessimo dare una opzione agli ex olivicoltori, e dire quali sono le specie arboree da frutto che potrebbero sostituire negli stessi areali dove c'era l'olivo con altre specie arboree da frutto al fine di mantenere il valore fondiario, perché lo sapete, convertire un frutteto in coltura erbacea vuol dire tornare indietro del valore fondiario. Ma volendo rimanere sullo stesso valore fondiario, che cosa potremmo proporre? Altre specie arboree da frutto, non solo, ma anche da legno, non solo, ma anche per altri obiettivi. Con gli alberi si può fare di tutto. E quindi abbiamo cominciato a dire, ma quali sono i criteri che dovremmo mettere in atto per scegliere i successori dell'olivo? Beh, sicuramente l'immunità, la resistenza al batterio, perché altrimenti ne ho fatto nulla. Secondo criterio è l'adattamento a stress abiotici. Voi lo sapete, non tanto la biocosità si è ridotta, ma è cambiata la distribuzione durante l'anno. Quindi delle specie che non solo resistono a stress idrici prolungati, ma anche a stress termici prolungati, è la scarsesa dell'acqua, non solo quella di falda, considerando l'intrusione salina all'interno delle cose delle tre province, ma anche ovviamente quella che proviene dai corpidici superficiali. E poi l'importanza economica della specie. Questi sono stati i tre criteri che ci hanno guidati nelle scelte da poter offrire all'imprenditore in areali infetti. E quindi, come è uso nei nostri ambienti, facciamo prima la pubblicazione, quindi prima di dirvi qualche cosa, abbiamo vagliato in un pane internazionale quello che sono stati i risultati di questa prima ricerca. E quindi sono venute fuori queste cose simpatiche. Vedete qui anche inclusa la provincia di Bari, perché lo sapete, ormai anche la provincia di Bari purtroppo è interessata dall'infezione. E ci siamo concentrati sulle specie, soprattutto per inguscio, perché non solo hanno, a parte il mandolo, ma magari su questo poi Donato potrà dire qualcosa, ma sicuramente le altre specie sono immuni. E il valore agronomico commerciale che oggi assume il mandolo, ma il pistacchio, ma tutta la noce, tutta la frutta secca, è molto importante. Tra l'altro sono specie abbastanza aridoresistenti, pensate al mandolo e al pistacchio, quindi sicuramente questi sono i primi risultati. Non solo queste, quello che vedete, sono le superfici totali, ma sappiamo anche la dislocazione delle aree evocate. Abbiamo fatto di fatto uno studio di fertilità potenziale di queste specie in quelli areali. Il kiwi ovviamente non è roba di areali ionico-salentini. Avete visto che è tutta concentrata, invece di Bari, quindi ho messo tra parentesi perché lo sapete. Ma ci sono 70.000 ettari evocati di mandolo, 40.000 ettari di pistacchio, signori. Ci sono 100.000 ettari evocati al fico, un'altra specie che dovrebbe avere molta più attenzione, non solo per la produzione dei forniti, ma anche dei fioroni nelle varietà bifere. E ci sono più di 200.000 ettari evocati di melograno. Ovviamente il melograno abbiamo inserito perché come il kiwi negli anni 80 si vendeva nell'83 un kiwi mille lire, dopo qualche anno un chilo di kiwi mille lire, anche il melograno ha fatto la stessa storia. Però in ogni caso ci sono tantissime zone evocate per questa specie, acqua irrigua permettendo. Sono in studio altre specie arboree da frutto. Il noce non solo da frutto, ma anche da legno, gli agrumi, l'avocado, il carrubo. Lo sapete, l'avocado ha le stesse esigenze degli agrumi, quindi laddove alligna l'agrume può allineare anche l'avocado e anche il carrubo, che è una specie di arboree da frutto altrettanto interessante e molto arido resistente. Questo è quello che bolle in pentola, ma ci sono già, come vedete, delle informazioni di immediato aspetto applicativo. Per chi invece volesse rimettere olivola, dove le cultivar sensibili sono morte ormai, pesantemente infette, allora il legislatore comunitario, nazionale e regionale è venuto incontro a questa richiesta e quindi ha permesso il reimpianto in areali infetti dell'olivo, ma ad esclusione, come sapete, degli ultimi 20 km dalla zona di contenimento. Lì è vietato rimettere l'olivo. Perché? Perché bisogna, vedete, eliminare gli alberi infetti, improduttivi, ridurre la quantità di inoculo e superare la crisi economica. Questi sono i tre obiettivi del reimpianto dell'olivo in areali infetti. In ogni caso, o mettiamo l'avocado, o ci mettiamo l'olivo, il fico, il melograno, qualsiasi cosa gli imprenditori in areali infetti vogliano rimettere, bisogna passare dalla progettazione del frutteto. Non ci si può improvvisare. Non si può andare dal vivaiste e dire che cosa devo mettere, non si può andare a dire che ha la goccia. No, bisogna fare il progetto del frutteto. Così come si fa il progetto del vigneto a duva da tavola con culti varpirene, del ciliegio a frutti di consumo fresco, così anche deve essere applicato. Abbiamo la possibilità di ricominciare nel verso giusto. E come diceva Sant'Agostino, trarre il bene dal male. Questa è un'opportunità che ci dà la xerela paradossale, ma esattamente così. E come sapete la progettazione del frutteto è una successione di scelte, imprecisa successione, che va innanzitutto dall'analisi economica. Il primo attore del rilancio dell'olivicoltura non è l'olivicoltore, ma è l'imprenditore. Senza l'imprenditore nessuno investe in agricoltura. Se non ci sono i tempi di ritorno di capitali investiti, il tasso di rendimento interno, queste cose. Si parla di l'agricoltura, il settore primario dell'economia, che poi l'agricoltura salvaguarda il paesaggio dal cibo salutare. Queste sono, come dire, gli economisti chiamerebbero esternalità, ma senza l'albero salta tutta l'area, il paesaggio, la storia e la cultura. Dopodiché vedete le scelte imprenditoriali che devono precedere le scelte agronomiche. Ci sono ancora scelte extra agronomiche, poi ci sono quelle scelte agronomiche, tutte in precisa successione. Non potete invertire l'ordine degli addendi, perché nell'addizione la somma fa il totale, ma in agricoltura la somma non fa il totale. E poi bisogna fare questo. Se avete dei terreni da migliorare, beh, è l'occasione di migliorarli, lo so che è un investimento, ma sapete, tra primo pilastro e secondo pilastro, i soldi non mancano. È un fatto, ovviamente, di volerlo fare. Tra le scelte agronomiche che mi sono stati affidati oggi sono due interessanti. La scelta, oltre che della specie, della cultiva, cioè della verità coltivata, è la scelta del sistema culturale, cioè di come coltivare queste cultiva. Cominciamo dal primo argomento. La scelta della cultiva. Nel caso dell'olivo, il primo criterio è la scelta della cultiva tollerante, barra resistente, axilella fastidiosa, pauca. Poi tutto il resto. E quindi, ovviamente, sapete che dal 2018 questo è possibile, ma solo con cultiva resistente e tollerante. Quali sono, vedete, ad oggi, poi speriamo che oggi Donato in conclusione ci dia qualche altra cosa, non lo guardo così, speriamo che ci dia qualche altra informazione, però ad oggi, vedete, questo è quello che è vigente. Quindi possiamo fare soltanto due culti, la recina è fabolosa. Parentesi. Perché quante ce n'erano prima in Salento? O gli erano la Salentina e ce n'erano in Ardò. Quindi voglio dire, anche su questo, comincio a dire, ma scusate, meno due più due quanto fa? Fa imprenditore, fa agronomo. Quindi anche qui, già averne due rispetto a due che abbiamo perso, e voglio dire, siamo in pareggio. Anche qui, vedete, prima di lanciare, ci sono stati tutti una serie di studi, ormai vecchi di 6, 7, 8 anni, che hanno dimostrato che queste due cultiva possono, e quindi alla luce di queste pubblicazioni, poi il legislatore ha fatto la parte sua. Quindi ognuno fa il dovere suo. Istruzioni per l'uso di queste cultiva. Voi sapete che non si hanno dati su lungo periodo, forse sì, su leccino, qualche cosa in più, su produttità e resistenza. In ogni caso, ogni cultiva ha pregi e difetti, non esiste la cultiva ideale. La cultiva leccino è una cultiva, vedete, non ve le leggo, perché è roba da agronomi, vedete, ha una vigoria medio-alta, è molto sensibile, vedete, alla verticiliosi, e poi matura molto precocemente. E questo può essere aspetti positivi ed aspetti negativi, nei quali non entriamo in dettaglio, ma sicuramente è una cultiva che ha un'alta sensibilità allo stress idrico e salino. E quindi, voglio dico, leccino, bisogna stare attenti con l'acqua, che non deve mancare, ed è anche di buona qualità. Tra l'altro, è stata inserita nel disciplinare EGP olio di Puglia, l'abbiamo voluta fortemente, e quindi si può fare, con l'olio di EGP, con l'olio di leccino, nell'usalento, si può fare benissimo olio tipico. Ma da leccino si può fare anche olive da mensa, quindi vedete che panorama, si può fare olio standard, olio nutraceutico, olio tipico, olio biologico, olio integrato, olive da mensa, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi oggi, gli imprenditori salentini hanno veramente un ventaglio di opportunità. La favolosa, anche questa è una cultiva che matura precocemente, paradossalmente, come leccino, anche qui ci sono aspetti positivi di questa grande precocità di raccolta. Di favolosa si conosce un po' meno, adesso ci è arrivato un bel progetto filato al Ministero e faremo proprio la valutazione più di dettaglio di queste due cultiva in areali infetti. Anche la favolosa è stata inserita nell'articolo 2 del disciplinare dell'IGP di Puglia e quindi anche con favolosi può fare olio nutraceutico, olio salutistico, olio basso, tutte le possibili situazioni, non oliva da mensa per ora. Ci sono altre cultiva? Sulle nuove cultiva adesso vediamo, sicuramente per le nuove cultiva ci sono le cultiva per l'alta e l'altissima densità e quindi siamo impegnati su un altro fronte, quello del miglioramento genetico dell'olivo che pare essere una parolaccia. Ma come? Dobbiamo migliorare l'olivo? Ma perché? Non vanno bene le 500 cultiva che abbiamo? Ma dove stanno? Nei nostri musei del campo collezione? La metà dell'olio italiano proviene da 5 cultiva e gli ad 495 dove stanno? Nei nostri musei. Quindi anche qui bisogna stare molto attenti perché la biodiversità serve per il miglioramento genetico, per avere perpendici all'esistenza di varietali, ma non per fare ideologia su questo. E quindi anche sull'olivo ci siamo messi a fare miglioramento genetico per incrocio controllato. E quindi negli ultimi diciamo anni sono venute fuori tre cultivar nuove, tutte e tre brevettate, Università degli Studi di Bari, Bari, Puglia, Italia. Quindi anche su questo voglio dire non è né a stelle strisce né non ci sono corone, c'è soltanto la nostra Repubblica. Questa è stata ormai depositato in brevesme che ha già scoperto tutti i test e quindi ne sono vendute diciamo un paio di milioni di alberi ogni anno se ne vedono nel mondo tra il vecchio e il nuovo continente tra l'Africa e l'Europa. Poi c'è l'olio coreana di più recente introduzione che sembra avere grande successo soprattutto per la produzione di un olio di alta gamma ed è una cultivar come dire gentile come la coratina addirittura questa cultivar produce sui rami misti come se fosse vite. L'ultima è arrivata è una bella cultivar da mensa quindi vedete oggi per gli impianti ad alta ed altissima densità anche qui abbiamo aumentato notevolmente la disponibilità varitale. Il lavoro è continuato e vi assicuro che continuerà ancora ci sono tante altre selezioni precommerciali in studio in arrivo quest'anno è iniziato il secondo step del miglioramento genetico di secondo quindi adesso passeremo alle F2 tutte queste selezioni ovviamente sono in studio presso i nostri amici del CNR perché ovviamente la bontà agronomica adesso deve passare al vaglio della resistenza alla xylella speriamo che chiudano presto. Al contrario ci sono invece accessioni rinvenimenti incroci spontanei che negli ali salentini sembrano avere un certo grado di resistenza e quindi stanno valutando con un processo al contrario cioè si passa da quello che in natura ha creato e quindi si sta valutando prima la resistenza alla xylella dopodiché bisogna fare per queste accessioni spontanee una seria e lunga valutazione agronomica perché una accessione spontanea può essere immune alla xylella ma da un punto di vista agronomico può essere veramente stravigo una schifezza e quindi non abbiamo fatto assolutamente nulla. Secondo e ultimo sono i tempi Francesco credo ci siamo perfetto va bene allora la seconda parte riguarda la scelta del sistema culturale abbiamo queste nuove specie abbiamo le nuove cultiva abbiamo cultiva tradizionali come mette la dimora come se stessimo al tempo di calo di borbone no qualcuno l'ha pensato anzi qualcuno l'ha fatto e io dicendo gli ho consigliato guardi probabilmente è meglio che stirpa tutto non è svenuto so perché era seduto ma ancora oggi mettete i fruttetti a 200 alberi per ettaro 4 per 4 in quadrato 5 per 5 è una sciocchezza da tutti i punti di vista comunque chi volesse oggi mettere a di nuovo a dimora mi concentro solo sull'ivo i nuovi impianti quale possibilità ha di sistemi culturali 2 l'intensivo e il superintensivo nessuno oggi mette a dimora tradizione monumentale te lo diventerebbe tra 80 anni e nel frattempo come campa con il primo e secondo piastro della PAC molto difficile che cosa di che cosa stiamo parlando degli impianti intensivi e dei superintensivi in mezzo c'è un buco perché è ancora in via di sperimentazione ma credo che ci vuole ancora diversi anni prima di avere questa terza chance nei nuovi impianti in olivicoltura ma ad oggi abbiamo già due chance che vanno a moltiplicare le possibilità delle scelte varietali quindi immaginate cominciamo ad avere una serie esponenziale di scelte agronomiche oggi in areali infetti e di questo credo che nessuno debba lamentarsi del lavoro che università e CNR stanno facendo negli ultimi dieci anni cominciamo però a vedere se uno se un impenditore volesse fare olivicoltura intensiva che cosa dovrebbe fare questo per essere moderno per avere la sostenibilità agronomica economica e ambientale perché altrimenti sta facendo qualcosa una grande sciocchezza agronomica economica ed ambientale e quindi questo è quello che noi consigliamo in questi sistemi culturali potete mettere a dimora sia la favolosa che l'alcino perché hanno un grado di vigoria apposta per questi sistemi culturali se invece volesse affacciarvi a qualcosa di più moderno di più meccanizzato di più efficiente di più sostenibile allora andate su quello sulla olivicoltura superintensiva purtroppo non quello di seconda generazione per i motivi che adesso vi dirò ma dovreste fermarvi alla prima questo è un impianto per esempio che è presente messa a dimora nel 2002 tra Manduria e Davetrana che ha subito un sacco di problemi tra i quali adesso insomma comincia a dare gravi segni perché però vedete proprio negli anni di Salentini è iniziata come dire la rivoluzione olivicola molto prima della Xilella anche qui ci siamo messi a studiare ma a questi sistemi culturali così moderni quale cultiva tra Lecino e Favolosa si adattano quindi anche qui prima di dirvelo abbiamo fatto la sperimentazione finanziata abbiamo sottoposto a un paese nazionale quindi vi posso dire qualche cosa per esempio vi posso dire che assolutamente Lecino escludetelo dagli impianti ad altissima densità la Favolosa si può fare diciamo è in serie B non è proprio in serie A però che volete fare quello teniamo e con quello ci dobbiamo ragionare tanto è vero questa è un'azienda di Scorrano che ha messo a dimora l'anno scorso quest'inverno quindi vedete ha messo a dimora questo tipo di impianto con Favolosa questo è un impianto già in produzione a Casarano di un nostro carissimo imprenditore e quindi ormai io ho conservato quella bottiglia di olio come il primo olio poxxilella quindi rinascere anche con l'olivo il neale in fe non è che si può lo fanno già lo si fa già ovviamente in questa maniera noi possiamo conservare il reddito la ricchezza e l'occupazione ve l'ho messo tra virgolette perché perché prima della xylella quegli oliveti davano reddito ricchezza e occupazione non rispondete adesso non rispondete a me fatevi esami di coscienza poi magari con Francesco ci rivederà un'altra occasione quindi faremo l'esami di coscienza agronomico su questo in ogni caso ormai quello è passato è un mondo che non c'è più c'è tantissimo da poter fare già con le conoscenze che oggi ci sono e quindi vedete possiamo rimettere il moto alla macchina del reddito della ricchezza e dell'occupazione anche in reali infetti utilizzando l'olivo e continuando a produrre olio però si cambia tutto ed è una sola cosa va cambiata vedete ci sono dei requisiti non è possibile continuare a fare quello che si faceva prima ah si dai un po' d'acqua all'olivo tanto una cosa di olive ve lo dà ma si un concime lo stesso imprenditore che in azienda aveva la vita contro spagliera e l'olivo alla vita contro spagliera fa e faceva e fa tutto quanto all'olivo quello che capita lo stesso imprenditore nella sua stessa azienda è un fatto di mentalità di approccio questo approccio deve saltare in aria se la xylella ha avuto un merito ha il merito di far saltare all'aria tutto il mondo che invece gira intorno fuori dall'agricoltura e quindi senza questi tre requisiti avete voglia primo pilastro secondo pilastro piano straordinario saranno soldi spesi male quello che serve è più cultura ad etero grazie mi aspetto domande molte grazie a professor Camposeo le domande le teniamo in serbo per per la fine comunque tanti concetti molto interessanti miglioramento genetico perché il sistema l'unico al momento ancora era proprio disponibile per olivo quello tradizionale questo comporta poi i tempi purtroppo anche lunghi di attesa per trovare del materiale effettivamente interessante comunque ha citato alcune varietà nuove che sembrano promettenti e quindi attendiamo la valutazione dei risultati ma credo che la parte proprio la parte di chiusura del professore sia quella secondo me più importante il concetto di mentalità imprenditoriale in primis e poi frutticola lo si diceva forse anche tanti anni fa nel senso che chi vuole fare olivicoltura deve anche un po' abbandonare il passato e seguire un po' il modello frutticolo per dare nuova linfa e nuovo reddito il professor Camposeo ha ovviamente comunque parlato della possibilità di ripartire anche negli areali infetti e quindi cedo adesso la parola al professor Alessandro Vivaldi che ci parlerà appunto delle tecniche culturali innovative per l'olivo in areali infetti sì grazie buongiorno a tutti ringrazio ed agricole per l'invito quest'oggi vi mostrerò alcuni dei risultati ottenuti nell'ambito di un progetto regionale che posso sintetizzare in queste tre grandi tematiche la prima è quella di sistemi di irrigazione di precisione sistemi di hardware e software utilizzati in un'azienda che si trova nell'areale infetto appunto nella zona di Gallipoli parlerò di sistemi intelligenti di gestione della fertilizzazione e anche delle nuove frontiere all'utilizzo del remote sensing per il monitoraggio dell'olivo il progetto è un progetto finanziato dalla regione Puglia della misura 16.2 che prevede sistemi innovativi per il riutilizzo delle acque refurbane affinate in olivicoltura qui potete osservare l'oliveto oggetto di sperimentazione e c'è in alto il link al sito internet dove potete trovare tutti i risultati che abbiamo ottenuto che otterremo nel prossimo futuro come vi dicevo l'oliveto è un oliveto commerciale cultiva leccino sesto inquadrato di circa un ettaro dove abbiamo installato un impianto di subirrigazione irrigato con acque refurbane affinate e l'acqua è distribuita da consorzi oggetto l'ifoggi allora relativamente ai sistemi di irrigazione di precisione abbiamo effettuato l'installazione di un sistema di sensori per il monitoraggio in continuo dell'umidità del suolo della temperatura e della connocibilità elettrica a due diverse profondità e il tutto è gestito da un software che abbiamo sviluppato insieme ad un'azienda barese la Intesis dove si possono come dire effettuare tutta una serie di operazioni come vi dicevo l'impianto il progetto prevede il riutilizzo delle acque reflue quindi qui potete osservare sostanzialmente lo schema di gestione dell'acqua a sinistra vedete la figura che rappresenta l'impianto di affinamento del comune di Gallipoli dove sono raccolte le acque reflue sono trattate affinate e poi distribuite in quella rete diciamo di tubi che vedete qui rappresentati nelle aziende che rappresenta sostanzialmente il consorzio Uggento di Foggi che distribuisce l'acqua direttamente in azienda quindi diciamo ci tengo molto a precisare che questo non è un prototipo non è una prova e sì una sperimentazione però comunque è una come dire un'attività che stiamo svolgendo in un'azienda reale qui come vi dicevo ci sono tutta una serie di operazioni che si possono svolgere qui a sinistra potete vedere una tabellina cosa facciamo sostanzialmente abbiamo montato una rete di sensori che in continuo monitora la qualità dell'acqua uno dei pregi del riutilizzo delle acque reflue urbane è quello di poter riutilizzare non solo la risorsa in se stessa ma anche quello che c'è all'interno e all'interno vogliamo valorizzare sempre secondo il regolamento regionale quindi è tutto comunque gestito a livello è tutto regolamentato volevo dire abbiamo la possibilità di monitorare cosa ammonio potassio nitrati conducibilità elettrica pH e temperatura questo ci consente quindi di monitorare anche quello che c'è all'interno dell'acqua e chiaramente poi poterlo utilizzare in un piano di fertilizzazione queste sono alcune delle immagini dei sensori installati nell'impianto di affinamento qui in particolare vedete acqua refl affinata trattata prima dell'entrata nella rete di distribuzione gentolifoggi e lì ci sono al centro una serie di centraline che gestiscono il dato e che poi è consultabile chiaramente all'interno del nostro software tra le altre attività su questo software sicuramente c'è quello dell'automazione c'è la possibilità una cosa abbastanza banale già da tempo si fa però l'abbiamo introdotta e sostanzialmente cosa possiamo fare possiamo gestire l'irrigazione o manualmente secondo tre diciamo tecniche o manualmente o attraverso una gestione oraria oppure mediante il monitoraggio dell'umidità del suolo in maniera tale da poter addirittura automatizzare cioè il sistema è completamente automatico e può chiaramente aprire e chiudere può come dire attivare o disattivare l'impianto irriguo per poter distribuire l'acqua all'interno dell'oliveto c'è anche la possibilità di consultare l'andamento dell'umidità del suolo ci sono tante funzioni tra le altre abbiamo anche la possibilità di monitorare in continuo vedete questo è il monitoraggio dell'ammonio e comunque dell'azoto in continuo all'interno dell'impianto e questo può non solo essere utile per gli agricoltori ma anche poi per il gestore che può monitorare in continuo quello che c'è all'interno dell'acqua e quindi avere sempre tutto sotto controllo abbiamo la possibilità di monitorare anche i consumi cioè quanta acqua distribuiamo nel tempo quindi in maniera tale da poter avere tutto sotto controllo come vi dicevo lo stesso software può anche gestire il piano di concimazione questo piano di concimazione parte dall'introduzione di una serie di informazioni aziendali che riguardano il terreno alcuni parametri agrometeorologici la scelta della specie eccetera eccetera ma anche la produzione attesa questo sistema riesce a realizzare un un impianto un piano di fertilizzazione partendo sempre da quelli che sono i regolamenti della produzione integrata qui vedete ci sono tutta un'altra serie di funzioni tra le quali quella appunto di calcolare l'apporto di nutrienti anche in funzione della fase fenologica quindi cosa fa questo software valuta in base alla produzione attesa quanto fertilizzante distribuire valuta quello che c'è all'interno dell'acqua refurbana affinata fa una sottrazione e quindi suggerisce all'agricoltore di apportare la giusta quantità di fertilizzanti qui vedete c'è anche la possibilità all'interno del software di tenere sott'occhio a quello che è la distribuzione dei fertilizzanti una sorta di quaderno di campagna digitalizzato che ci consente sempre di tenere tutto sotto controllo quello che l'obiettivo qual è quello non solo di riutilizzare una risorsa che chiaramente è uno scarto ma anche quella di riutilizzare i nutrienti e quindi di ridurre l'apporto di fertilizzanti chemici chiaramente all'interno della sperimentazione noi abbiamo messo a confronto alberi sono entrambi irrigati con acqua e reflui però abbiamo differenziato due trattamenti quello con quello con trattamento che abbiamo definito concimazione smart cioè quello di prendere in considerazione i nutrienti all'interno dell'acqua e quindi ridurre l'apporto fertilizzante e invece abbiamo confrontato queste parcelle con le parcelle invece concimate con una fertilizzazione diciamo standard bene nel 2022 è stata la prima raccolta abbiamo ottenuto questi valori cioè 81 quintali e 80 quintali per ettaro che chiaramente non presentano differenze statisticamente significativi e quindi questo per dire che la riduzione e l'apporto di fertilizzanti grazie all'utilizzo di questo software non ha comportato una riduzione in termini di produzione chiaramente monitoreremo nei prossimi anni le produzioni e chiaramente produrremo nuovi risultati l'altra cosa interessante è che sui 1300 metri cubi per ettaro distribuiti nel 2022 abbiamo ottenuto un risparmio in termini di fertilizzanti del 17% di azoto 5% di fosforo e 33% di potassio questo in un'ottica di miglioramento della sostenibilità agronomica economica e ambientale dell'olivicoltura per chiudere vi mostro anche un altro fronte su cui stiamo lavorando molto attivamente che è quello del monitoraggio dell'olivo attraverso sistemi di remote sensing sostanzialmente cosa facciamo stiamo realizzando dei modelli che si chiamano data driven cioè sono dei modelli che sono sostanzialmente basati sui dati a terra non è solo una semplice produzione di mappe di prescrizione con indici spettrali che non hanno tanto senso cioè non è che non hanno senso e che sono anche difficili da comprendere da parte degli agricoltori cosa facciamo a terra misuriamo il potenziale idrico fogliare che è un indicatore dello stato idrico dell'olivo misuriamo ad esempio con questi strumenti il contenuto di clorofilla all'interno delle foglie che quindi ci dà un'indicazione sostanzialmente del contenuto di azoto all'interno delle foglie e poi che facciamo utilizziamo le immagini che ci fornisce una rete satellitare che si chiama PlanetScope è una rete satellitare una costellazione di circa 130 satelliti che fornisce un'immagine giornaliera dello stesso appezzamento fornisce magari per chi non è del campo magari è un po' più difficile da comprendere però fornisce immagini con pixel di 9 metri quadri quindi con un lato di 3 metri quindi dove è possibile isolare il singolo albero e fornisce a livello spettrale una serie di bande cioè 8 bande spettrali con queste bande spettrali abbiamo anche elaborato indici spettrali forse il più conosciuto è l'NDVI ma ce ne sono tante altre insomma per non complicare il tutto abbiamo utilizzato dei sistemi di machine learning per come dire effettuare come dire come per prevedere lo stato idrico dall'olivo partendo da dati raccolti a terra e dati provenienti dal satellite i modelli che abbiamo ottenuto sono molto promettenti in fase di test abbiamo ottenuto indici di correlazione di 0,90 quindi ciò significa che il modello che stima da satellite lo stato idrico è molto robusto e quelle che vedete qui a destra in questo grafico sono delle mappe di prescrizione dell'olivo questa è una foto dell'oliveto le zone colorate in blu stanno ad indicare che quella zona dell'oliveto è in buone condizioni idriche le zone colorate in rosso sono invece aree che sono in stress idrico il vantaggio di questi sistemi è che si possono monitorare si può monitorare l'intera azienda agricola e anche giornalmente come vi dicevo è possibile con questa rete satellitare ottenere immagini anche giornaliere chiaramente nelle giornate in cui non c'è copertura nuvolosa qui diciamo qui c'è una time series non so se si può avviare il video sostanzialmente possiamo anche produrre una successione di immagini eccolo qui sì una successione di immagini che è una time series che sostanzialmente ci dice l'oliveto in quali condizioni idriche sostanzialmente si trova quando la colorazione è verde ci dice che l'olivo è in buone condizioni idriche quando invece la colorazione tende più al giallo arancione rosso vuol dire che l'olivo non è in buone condizioni idriche questo ci consente anche di integrare le informazioni provenienti dal campo quindi ad esempio stato idrico condizioni agroambientali e agroclimatiche e quindi poi poter dare dei suggerimenti agli agricoltori di quando e quanto irrigare abbiamo anche prodotto le stesse mappe utilizzate per lo stato idrico anche per il contenuto di clorofilla e quindi qui possiamo avere abbiamo ottenuto un modello anche in questo caso non diciamo molto robusto però comunque molto promettente perché comunque è basato su centinaia di dati raccolti a terra e quindi possiamo anche in questo caso creare delle mappe di cosiddetto chlorophyll content index sostanzialmente un indice di contenuto di clorofilla all'interno delle foglie che sostanzialmente ci può dare un'indicazione dello stato nutrizionale dell'oliveto concludo dicendo che oggi l'irrigazione e la fertilizzazione può essere fatta in maniera intelligente e sostenibile all'interno dell'oliveto anche riutilizzando risolze che sono considerate scarto ma che possono essere appunto riutilizzate il remote sensing è molto promettente il futuro vede anche il prossimo lancio di un sistema satellitare molto più avanzato rispetto a quello di cui vi parlavo e consente quindi di migliorare ancora di più l'utilizzo di questi strumenti in agricoltura gli algoritmi che abbiamo sviluppato all'interno del progetto di UBSAL saranno sicuramente integrati all'interno del software che vi ho fatto vedere all'inizio di questa presentazione e che chiaramente questi modelli e queste mappe di prescrizione miglioreranno nel tempo perché grazie alla raccolta continua di dati che faremo ci consentirà chiaramente di stimare con molta più precisione quelle che sono direttamente le condizioni in campo e io vi ringrazio per la cortesia attenzione grazie professor Vivaldi come vedete insomma le cosiddette tecnologie 4.0 sono tranquillamente applicabili anche nell'olivo mi viene un po' da sorridere perché non so io spero che siano cambiate un po' le cose ma magari una volta si pensava beh l'olivo concimare irrigare ma non c'è mica bisogno invece c'è bisogno e come ci sono i sistemi per ottimizzare perché se abbiamo visto che ad esempio a parità di rese si risparmia il concime perché no torniamo a bomba sulla xylella a questo punto rispetto alla locandina abbiamo un'inversione di presentazioni per cui invito adesso l'osservatorio fitosanitario della regione Puglia le persone del dottor Francesco Palmisano e Giovanni D'Amato siete in due a parlare vi chiedo la cortesia di fare uno sforzo di sintesi vediamo un po' lo stato dell'arte della diffusione della malattia quindi della xylella fastidiosa e quali sono le prospettive allora buongiorno a tutti io sono Palmisano e sono un funzionario della regione Puglia e illustrerò insieme al collega Giovanni D'Amato oggi lo stato dell'arte sulla diffusione della malattia e le prospettive future innanzitutto a partire dall'inizio molto velocemente quando nel 2013 fu segnalata per la prima volta una fitopatia insomma il complesso di seccamento rapido dell'olivo nella zona di Gallipoli nella zona circoscritta dal cerchio rosso che vedete in diapositiva questa malattia si manifestava con questi sintomi quindi seccamenti a livello della chioma che comparivano non solo su singole piante ma bensì su diverse piante della stessa dello stesso Liveto ma che interessava di solo un interareale vedete qui la situazione è veramente complicata diverse ipotesi sono state fatte a riguardo della malattia sulle cause fino a quando nel 2013 fu isolato a queste piante sintomatiche un batterio da quarantena e claxila fastidiosa che caratteristica questo batterio questo batterio come molti sanno è un batterio che colonizza l'oxilema nel colonizzare l'oxilema occlude i vasi e nel momento in cui occlude i vasi poi la parte distale del ramo dissecca entra in stessidrico e quindi c'è poi questo dissecamento a macchia di lopardo sull'intera chioma questa è una situazione aggiornata sui paesi in cui è presente la xilea fastidiosa oggi a livello mondiale vedete che ci sono dei paesi evidenziati in arancione in questi paesi la malattia è presente e non difficilmente radicabile quindi è persistente il problema mentre come vedete ci sono alcuni paesi evidenziati in viola in cui la malattia è transiente quindi una malattia che è presente ma può essere può essere diciamo sia nella condizione di poterla eliminare vediamo a questo punto in Europa sempre situazione aggiornata a marzo qualche mese fa in questo caso vediamo che la malattia è presente in Italia in particolare in Puglia ma anche nella zona dell'argentario in Toscana ci sono dei focolaio o presenza di malattia in Francia e Corsica anche in Spagna e in Portogallo tenete conto che di xilea fastidiosa esistono diverse tipologie diverse subspecie in Puglia presente per esempio è presente la subspecie pauca nell'argentario esiste è presente la fastidiosa subspecie multiplex mentre praticamente in Portogallo è presente anche la fastidiosa fastidiosa quindi c'è a livello europeo un diverso livello di presenza della malattia che ha portato anche a fare nel momento in cui c'è la presenza della malattia una caratterizzazione molecolare degli isolati presenti in Puglia in pratica diversi olivi sono stati utilizzati per prendere i campioni è stata fatta un'analisi di questi campioni ed è stato visto che l'unica xilea fastidiosa presente in Puglia è la subspecie pauca inoltre è presente un unico ceppo calestitico 53 e questo fa pensare a un'unica introduzione del batterio nella regione vediamo adesso qual è stata l'evoluzione della malattia nel tempo come distribuzione spaziale e temporale nel 2013 ci sono praticamente delle piante con la sintetologia appena vista quindi infette nella zona di Gallipoli è la zona circoscritta nella parte bassa a sinistra della mappa successivamente nel 2014 sono stati individuati altri focolai nella provincia di Lecce intorno praticamente vedete alla città di Lecce poi facciamo un salto in avanti passando dal 2017 con diversi focolai con i puntini rossi corrispondono purtroppo a piante positive e si nota come c'è stato un avanzamento nel tempo verso nord arrivando nel 2017 ad ori all'altro anno interessando anche Ceglio Messapica quindi c'è stata una diffusione molto spinta purtroppo della malattia vediamo a questo punto la situazione più recente 2021 vedete nel 2021 la malattia è arrivata nella zona diciamo nella zona di Monopoli ci sono alcuni focolai sono quelli evidenziati col triangolino rosa c'è un focolaio anche a Castellana ma nel 2022 vedete che la situazione in quelle zone è esposa nel senso che sono emersi e sono stati individuati nuovi positivi ovviamente nel momento in cui ci sono dei positivi la Comunità Europea prevede che vengono delimitate le aree questa è l'ultima delimitazione aggiornata per quanto riguarda la regione Puglia cosa prevede questa delimitazione prevede due grosse macro aree la prima è l'area delimitata Salento che è quella evidenziata in rosa pallido quindi in basso nella Puglia e quella praticamente in giallino e successivamente più a nord c'è l'area delimitata Valeditia qual è la differenza tra queste due aree nell'area che ho indicato precedentemente è un'area in cui si operano attività di contenimento quindi si cerca di contrastare la malattia e quindi la diffusione mentre nel caso invece della Valle Editria quindi quella più a nord si cerca di eradicare quindi eliminare la malattia evitando e facendo in modo appunto che questa malattia non avanzi verso nord quindi sono due approcci diversi che vengono applicate nelle due diverse aree che ho appena citato nel momento in cui c'è un'emergenza di questo tipo è necessario predisporre un piano d'azione per il contrasto alla malattia negli anni precedenti è stato fatto un piano d'azione annuale questa volta si è pensato di fare un piano d'azione più a lungo tempo considerando un triennio quindi c'è un piano di azione 2023 2025 cosa prevede questo piano questo piano prevede e indica da indicazioni su come svolgere le indagini sul territorio sulle attività di sorveglianza da attivare numero di saggi visivi numero di campioni tipo di metodica da attuare tenete conto che il piano o meglio l'attività di contrasto la Xylella prevede diversi attori c'è l'ARIF per esempio che segue il monitoraggio ci sono i laboratori che seguono gli analisi quindi ci sono gli istituti di ricerca che fanno appunto ricerca quindi ci sono diversi enti che svolgono un ruolo quindi anche questi diciamo queste attività che questi enti svolgono vengono regolamentati dal piano d'azione e ovviamente anche le risorse finanziarie necessarie per attivare tutta la macchina questo è il risultato del monitoraggio del piano di monitoraggio chiuso a giugno 2023 è un'attività molto intensa ha previsto un'ispezione addirittura di circa 30.000 ettari quindi sono numeri abbastanza consistenti c'è un numero di campioni prelevati addirittura di 260.000 campioni quindi un numero anche questo molto elevato con un numero di positivi pari a 366 ultimo aggiornamento questo che vedete più al nord le stelle rosse sono quelli che indicano i positivi ultimamente trovati o meglio trovati a giugno luglio 2023 come possiamo vedere è stato interessato un nuovo comune purtroppo dalla presenza di xylella fastidiosa che è il comune di Putignano vediamo adesso quali sono le attività di contrasto alla xylella quindi abbiamo visto che nella zona Valle d'Itria quella più a nord area delimitata Valle d'Itria vengono svolte attività di eradicazione quindi quelle attività volte a eliminare il patogeno volte a fare in modo che il patogeno non avanzi verso nord in questo caso vedete c'è il puntino rosso che indica una pianta positiva tutte le piante intorno 50 metri queste piante positive vengono eliminate questo diciamo è il punto o è l'attività che viene svolta in queste aree tenete conto che gli ettari e il numero di ettari da analizzare o ispezionare viene fatta con un protocollo RIBES un protocollo statistico quindi a campione vengono indicati gli ettari da sottoporre a ispezioni ad analisi addirittura la regione Puglia nei focolai questo è un focolai di Castellana Grotte ha ipotizzato di non limitarsi a fare degli analisi a spot su diversi ettari su metro statistico ma a fare le analisi considerando tutti gli ettari vedete questa mappa in questa mappa abbiamo la parte centrale vedete in rosso il core delle piante positive intorno tutte le piante saggiate negative e poi vedete tutti gli ettari analizzati e per fortuna tutti negativi quindi questo per fare in modo che eventuali impianti positive potessero essere evidenziate ed eliminate immediatamente in modo da ridurre al massimo la pressione di inoculo verso nord altro aspetto questo è la zona in contenimento quindi quell'attività che servono diciamo a limitare l'inoculo in un territorio vengono svolte nella zona nella fascia arancione che si trova praticamente la parte più alta della area delimitata Salento e in questo caso vengono eliminate solo le piante infette e tutte le piante ovviamente intorno vengono comunque saggiate e nel caso positive vengono eliminate altra strategia adottata quindi c'è una strategia di ridurre l'inoculo sul territorio altra strategia è quella di ridurre la popolazione di quell'insetto che opera il trasferimento della xylella da una pianta all'altra per poter ovviamente questo è molti conoscono il vettore della xylella fastidiosa e la sputacchina un vettore molto efficiente nella trasmissione e ovviamente per apportare per pianificare un'attività di contrasto a questo parassita quello che si è fatto è quello di studiare innanzitutto il ciclo dell'insetto quello che si può notare è che questo insetto nel periodo primaverile vive sulle piante erbace sulle piante spontanee forma non mobile quindi non si sposta non è capace di infettare successivamente si trasferisce praticamente sulle chiome degli arbi di olivo e nel caso in cui contra una pianta positiva poi con la sua opera di nutrizione e spostamento opera purtroppo la diffusione quindi cosa prevede il piano il piano prevede delle lavorazioni da eseguire praticamente nel periodo primaverile per eliminare appunto le forme giovanili cioè queste lavorazioni eliminando le erbe estanti vanno a togliere le forme giovanili del vettore quindi vanno a ridurre drasticamente la popolazione del vettore ovviamente ci sono delle circolari emesse dall'osservatorio che indicano i momenti più opportuni per fare queste lavorazioni ed è ovvio che queste lavorazioni sono fatte in tempi diversi e ci sono indicazioni diverse a seconda dell'altitudine perché a seconda dell'altitudine cambia il ciclo del vettore questi sono i comuni interessati dall'obbligo delle lavorazioni sono 43 sono evidenziati nella mappa da una colorazione arancione e l'altro aspetto importante è l'obbligo dell'intervento insetticida sugli adulti quindi lavorazioni per le forme giovanili insetticida due interventi insetticida sull'adulto in questo caso i comuni sono di meno c'è da dire che anche in questo caso l'osservatorio emette le circolari sul momento opportuno in cui fare questi trattamenti e queste circolari vengono emesse in funzione di risultati legati a un metraggio che sul territorio viene fatto sul vettore cioè l'istituto agronico mediterraneo che sul territorio analizza e verifica gli stadi in cui si trovano gli insetti vettori e successivamente da indicazioni sul momento più opportuno per fare i trattamenti questi sono ovviamente i principi attivi utilizzati per questo controllo e per chiudere c'è un altro aspetto che considero il piano che è il livello di impianto di piante specificate quali sono le piante specificate adesso il numero specificato e parlo per la subspecie palco intendiamoci il numero è abbastanza elevato questo è un aggiornamento del 7 settembre del 2023 quindi molto recente appena meno di un mese e la regione Puglia ha dato possibilità di impiantare nella zona che vedete con lo sfondo rosso rosso tenue di impiantare olivo varietà FS17 leccino in quanto resistenti e tolleranti gli agrumi il pesco il sussino albicocco in quanto diciamo fortemente immuni al batterio ed inoltre il mando e il ciliegio in quanto tolleranti quindi in queste zone si può fare questo impianto eccensione fatta della zona contenimento cioè quella fascia che vedete in colorazione arancione altro aspetto non viene considerato impianto l'innesto quindi se in zona se nella piana degli olivi c'è ci sono ci si trova in zona contenimento ed è necessario fare praticamente un innesto questo non viene visto come un impianto quindi si può fare ultimo aspetto e chiude passo la parola al collega D'Amato nella zona infetta o all'area delimitata vale dita quella più a nord la possibilità di impianto di olivo vale a dire FS17 è favolosa non è possibile io vi ringrazio avrei chiuso e passo eventualmente la parola al collega grazie grazie dottor Palmisano dottor D'Amato se ce la fa in dieci minuti mi fa una cortesia anche meno così anche il dottor Boscia ha il tempo per la sua presentazione sì cercherò di sintetizzare al massimo allora il collega ha parlato di cosa si sta facendo per evitare che la malattia si sposti verso nord io invece vi parlerò di quello che si sta facendo per le zone che sono state colpite da questa tragedia che ha avuto un impatto devastante insomma non solo dal punto di vista economico soprattutto la cosa un po' che mi colpiva che è stata anche detta prima che sicuramente c'è un problema culturale io oggi in questo ambiente mi trovo benissimo perché si parla di cultura si parla anche a un livello diciamo tecnico importante insomma però ecco io ho l'impressione che dal punto di vista culturale invece ci sia una sorta di come dire ostilità nei confronti un po' della scienza nei confronti della tecnica ma soprattutto nei confronti dell'agricoltura per cui adesso vi farò vedere molto in sintesi diciamo quelli che sono i soldini insomma che sono stati messi a disposizione per risolvere dei problemi però ecco io ho una parola da spendere anche perché il ritardo che si è verificato per problemi amministrativi soprattutto è stato anche dovuto ad un atteggiamento diciamo antiscientifico secondo me per cui non possiamo dimenticarlo soprattutto perché questo atteggiamento ancora oggi c'è allora dobbiamo cercare di vedere la scienza non come un nemico ma come solo l'unica è l'unico entità che ci può aiutare a risolvere i problemi però questo chiaramente esula un poco dal tema entriamo diciamo velocemente nello specifico quindi vedete che da poco insomma l'osservatorio fitosanitario è stato investito della responsabilità di gestire questo piano straordinario per la rigenerazione politica della Puglia che nasce da da un decreto interministeriale 2884 che ha diversi articoli nel complesso sono 25 però alcuni diciamo sono si sono tradotti in bandi altri invece riguardano altri aspetti di tipo amministrativo quindi qua faccio un elenco molto veloce noi io intero siccome mi occupo di soprattutto dell'articolo 6 l'articolo 7 e l'articolo 8 che penso che siano anche quelli più interessanti dal punto di vista diciamo anche dell'efficacia e dell'effetto che hanno sul territorio magari gli altri comunque sono consultabili perché nell'ultima slide vi farò vedere che comunque questi report sono disponibili a tutti sul portale della della rigenerazione olivicola e vengono aggiornati quindi la situazione della progressione diciamo degli interventi viene costantemente aggiornata quindi vedete sono 22 diciamo le misure che vengono che sono state messe in campo ovviamente non tutte sono diciamo gestite dalla regione Puglia la dotazione diciamo di questo di questo decreto interministeriale è di 300 milioni all'articolo 3 abbiamo visto che c'è un problema la sputacchina purtroppo il vettore che diffonde la malattia allora per evitare questa diffusione bisogna fare una pulizia soprattutto delle banchine stradali o dei cigli dei canali perché sono le zone in cui la sputacchina può risiedere ed è un insetto come dire autostoppista non so se vi è mai capitato però io ho notato alcune volte che addirittura sul parabrezza dell'auto diciamo dopo essere stato in un oliveto ma non solo ma a me è capitato stando in un oliveto si appoggia la sputacchina e io ho notato che finché non si arriva alla velocità di 90 km all'ora questa sputacchina rimane attaccata al vetro che è una superficie abbastanza liscia quindi è importante evitare questa attitudine all'autostopp della sputacchina e quindi questa misura mira a limitare questa possibilità infatti molti focolai li abbiamo trovati proprio diciamo in corrispondenza per esempio di distributori di carburante dove magari il mezzo che era stato diciamo in campagna si è fermato e la sputacchina è andata a colpire diciamo delle piante che ospiticano vicine quindi abbiamo una diffusione a macchia d'olio ma poi abbiamo questi focolai che saltano diciamo questa diffusione a macchia d'olio quindi anche qui è stato già fatto il bando ovviamente è un bando non esclusivo diciamo per le pubbliche amministrazioni però chiaramente si privilegiano le pubbliche amministrazioni comuni che poi faranno poi a loro avvolto a loro volta diciamo dei bandi per eseguire le opere ok poi passiamo diciamo a questo articolo 6 che praticamente prevede l'espianto e il reimpianto dell'olivo c'era stata già un'altra misura del PSR la 5.2 che aveva già molto simile diciamo a questa misura chiaramente fondi diversi quindi non è stato fatto un bando diverso quindi non è stato possibile rifinanziare quella misura che in realtà era molto simile cosa prevede questa misura dà la possibilità quindi dà un contributo che è variabile in base al numero diciamo di piante quindi varia così da 7.500 euro a 15.000 euro per ettaro come contributo e impone diciamo di espiantare le piante che chiaramente sono morte o sono malate e di reimpiantare ovviamente delle cultivare che sono tolleranti alla resistenza alla Silella quindi adesso disponibili e autorizzate sono solamente la favolosa FES 17 e il Leccino allora come potete vedere la dotazione di questa misura era originariamente di 40 milioni di euro a cui sono stati aggiunti altri 20 milioni di euro e quindi siamo arrivati a un totale di 60 milioni di euro attualmente però vedete che dalle domande che sono state prodotte cioè il fabbisogno per andare a desaporire questa gradatoria così come è stata fatta per la 5.2 tranne qualche caso problematico che è ancora in corso sono di 222 milioni quindi vedere che c'è una differenza notevole e anche la superficie tutto sommato che riguarda queste domande è abbastanza limitata rispetto al totale della superficie che invece è stata interessata ovviamente per questo bando non è prevedibile una riedizione perché insomma prima bisognerebbe esaurire tutta la gradatoria e poi eventualmente provvedere alla pubblicazione di un altro bando ovviamente c'è stato un ritardo nella prosecuzione diciamo della nella scorrimento della gradatoria ripeto un po' per problemi amministrativi adesso ecco io non approfondisco il tema perché sarebbe molto complicato poi ecco pensiamo al futuro quindi però la cosa che volevo dire è che comunque il processo amministrativo è molto complicato perché tenete conto che quando si fa una istruttoria per una per un'azienda comunque si fanno tre istruttorie perché oltre al bando e quindi la domanda bisogna fare una istruttoria per la concessione un'altra istruttoria per che l'azienda magari richiede un anticipo delle somme e un'altra istruttoria nel momento in cui l'azienda chiede il saldo quindi chiaramente i tempi sono lunghi perché siamo purtroppo non so se purtroppo per fortuna sottoposti alla legge ordinaria quindi ogni volta bisogna fare tutta una serie di controlli di documenti che una volta acquisiti non durano per sempre scadono e qui il prossimo istruttore bisogna rifarli ma anche qui ci andrebbe una riflessione questo intervento voleva essere diciamo probabilmente un intervento di tipo emergenziale quindi doveva intervenire subito anche perché qui non parliamo diciamo di quello che a livello di aziende questo ha comportato però sicuramente io la cosa che noto nella zona del Salento che c'è un livello di abbandono dei terreni che è qualcosa di spaventoso quindi sicuramente queste misure che sono state pensate sono importanti e chiaramente faremo di tutto perché al più presto le aziende possono avere i fondi però che questo sia sufficiente non lo so nel senso che c'è proprio una struttura fondiaria che secondo me va un po' rivisitata perché noi siamo una realtà nel Salento il mio accento mi tradisce sulle origini leccesi che è molto frammentato quindi queste aziende che ormai non le conduce più nessuno bisognerebbe pensare a come riorganizzare una produzione tenendo conto che un terreno abbandonato come dicevo prima non evolve in una foresta in un bosco cioè generalmente va incontro a diventa una discarica per i rifiuti incendi e purtroppo noi siamo una zona fortemente a rischio di desertificazione quindi anche qui dal punto di vista culturale bisognerebbe far capire che l'agricoltura non è un accessorio ma è un'attività del tutto indispensabile sia per l'ambiente che per il paesaggio dottor Damato dobbiamo concludere perché se no non ho più tempo per il dottor Boscia stringo moltissimo allora articolo 7 è come l'articolo 6 solo che invece di prevedere il reimpianto di olivo prevede il reimpianto di altre piante mandolo ciliegio e altre cose questo bando diciamo ancora non è operativo nel senso che è stata paventata l'ipotesi di trasferire i fondi sul articolo 6 visto che lì la dotazione è insufficiente però effettivamente c'è stata da parte del territorio una richiesta invece di implementare questo bando e quindi sicuramente è un bando che a breve troverete disponibile e poi l'ultima cosa di cui vi parlo le altre cose le possiamo esaltare è il discorso dell'articolo 8 che accennava anche il collega il dottore Boscio ci dirà che c'è una foto che ho visto in una sua presentazione in cui c'era un albero di olivo che era metà secco e metà invece era verde ed era una pianta innestata a leccino probabilmente era stata innestata tutta metà della pianta l'innesso era fallito e quindi è rimasto il leccino e quindi noi partendo da questa osservazione ovviamente non solo questa abbiamo finanziato diciamo questi interventi già un primo bando è stato fatto adesso si sta provvedendo ad una riedizione del bando anche qua ci sono un po' di punti critici però ecco la priorità che viene data che sarà data è stata data ma sarà data ancora di più nel prossimo bando è per la piana degli olivi monumentali perché chiaramente ci sono delle piante che sono di particolare pregio e quindi sarà dato un punteggio preferenziale grazie dottor vado a concludere veramente perché se no non sforiamo troppo e mi cacciano dalla sala forse un'ultimissima bando va bene accendo solamente il catastro olivicolo che è una cosa che dipende diciamo dalla GEA dovremmo cercare di attivarlo perché questo ci consentirebbe di snellire la procedura soprattutto in fase di distruttoria però grazie l'ultimissima cosa tutto questo lo trovate sul portale della se andate su google basta che scrivete cercate nel motore di ricerca rigenerazione olivicola Puglia andate sul portale e ci sono disponibili questi report che vengono automaticamente aggiornati sistematicamente aggiornati quindi potete eleggere e quindi avere diciamo un'idea di quella che è la situazione scusate grazie dottor Donato Boscia chiedo il miracolo vediamo qual è la situazione della resistenza genetica alla xylella forti anche dell'ultimo convegno europeo di agosto a Lione grazie 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 per l'invito vediamo ecco posso procedere ok perfetto e niente entriamo subito nel merito approfitto dell'assist fatto fatemi dai colleghi che mi hanno preceduto per segnalare che comunque si sta nel caso di portare l'attenzione e di monitorare un paio l'evoluzione dello scenario che stiamo avendo in 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 questa epidemia fermo restando che il quadro general ha delineato inizialmente Pasquale Francesco Palmisano ci sono due aspetti che vanno sottolineati intanto che il fatto che stiamo assistendo oggettivamente ad un rallentamento significativo della diffusione a nord e contestualmente invece nel basso Salento nella zona più disastrata stiamo osservando registrando un'attenuazione degli effetti dell'impatto del batterio quindi dell'epidemia in quella zona che cosa intendiamo per rallentamento qui vediamo a confronto le due la demarcazione ufficiale la prima quella 2018 quindi ad agosto 2018 quindi al termine della galoppata dell'axilella che aveva compiuto nei primi cinque anni dell'emergenza mentre se noi la confrontiamo con con quella attuale vediamo che in realtà negli ultimi cinque anni la demarcazione ha avuto un ampliamento molto ma molto limitato essenzialmente sulla parte adriatica nei comuni che ha citato Francesco Palmisano prima e non solo ma in quell'area che io più o meno approssimativamente ho circoscritto in quel quadrato aranciono anche la diffusione su brevi distanze è molto più lenta di quando erano fossi a sud per cui per esempio nuovi focolai che appaiono a Fasano o piuttosto che a Ostuni eccetera da un anno all'altro si ampliano di poche piante o nella peggiore di poche decine di piante mentre nel basso Salento quando diciamo c'era la comparsa i primi sintomi in Oliveto nel giro di pochi mesi tutto l'oliveto era interessato quale può essere la spiegazione di questa situazione innanzitutto adesso siamo arrivati in un'area dove stando ai modellisti dell'EFSA le condizioni climatiche sono un po' meno adatte all'Axilelle quindi questo è già un elemento che ne riduce un po' il rischio c'è una zona dove c'è anche una gestione diversa dei terreni differenti pratiche agronomiche per tradizione è inutile che sto a delungarmi su questo ci sono sono in atto le azioni di contenimento monitoraggio e rimozione delle piante infette controllo dei vettori citati da Palmisano che oggettivamente adesso rispetto a dieci anni prima non fosse altro che la macchina la macchina diciamo amministrativa ha bisogno di tempo per organizzare una 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 macchina così elefantiaca adesso sono oggettivamente più meglio organizzate e anche più tempestive nell'applicazione poi c'è la questione dei sovrinnesti con varietà resistente che si sta cominciando a fare sempre nella pianta monumentale di cui parlava il dottor D'Amato e tutto questo fa sì che ci troviamo di fronte a una popolazione di vettori sicuramente meno abbondante di quanto non lo sia nel Basso Salento qui non voglio non voglio dilungarmi troppo su questo dati tempi stretti però vedete vi guardate diciamo le colonne rosse confronto a sinistra la densità di popolazione monitorata in provincia di Brindisi in otto siti della provincia di Brindisi a destra la densità di popolazione monitorata sempre nella primavera scorsa in altrettanti siti della provincia di Lecce questa attenuazione l'attenuazione dell'epidemia nel Basso Salento quindi invece dove stiamo osservando da almeno un paio di anni a questa parte che la frequenza dei nuovi dissecamenti è molto ma molto più bassa di quando non lo fosse prima ma è anche più 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 blanda mi riferisco alla zona che ho approssimativamente colorato diciamo in giallo la parte più da Brindisi in giù per intenderci quindi da un paio di anni abbiamo crescente segnalazione di una sorta di remissione dei sintomi nella vegetazione di olivi di oliveti non secolari normalmente i secolari sono andati completamente diciamo sì in alcune zone c'è una maggiore o minore vigoria di ricacci basal di polloni che spesso sono anche dei portinnestri non sono neanche la varietà però in oliveti anche adulti anche di 60-70 anni soprattutto di Cirlino di Nardò piuttosto che di Ogliarola si sta osservando una sorta di stasi della malattia con l'emergenza di nuovi sintomi molto ma molto limitata che sta facendo sì che in alcune zone in alcune condizioni si assiste anche a una parziale ripresa a un parziale recupero delle piante più a nord invece ahimè non è la stessa cosa perché c'è una situazione abbastanza allarmante che sta suscitando notevole preoccupazioni questo è un esempio una foto scattata a luglio ma è solo un esempio a San Vigio dei Normanni ma situazioni molto simili abbiamo anche Ostuni e altri comuni dell'area che stanno allarmando questa situazione che cosa intendo per parziale ripresa questo è un esempio questo vedete da un drone vedete a sinistra quella a sinistra è un oliveto secolare di Agliarola Salentina definitivamente compromesso mentre al centro e a destra ci sono delle celline di Nardò di 60 anni d'età quella al centro che è stata sempre mantenuta curata dal proprietario anche nei momenti più acuti dell'attacco mentre quella a destra sono celline esattamente coetane piantate dalla stessa persona però di un altro proprietario completamente abbandonate e in entrambi i casi adesso nel caso centrale c'è una situazione apparentemente soddisfacente rispetto al circondario a destra invece anche in quella abbandonata c'è comunque una ricrescita però attenzione di che cosa parliamo parlando con il proprietario ma prima com'era la situazione prima dell'Axel diceva bene non ne parliamo guardate quanta luce c'è tra un filare e l'altro cose che invece prima prima del 2013 non c'era era tutta una copertura costante mi diceva il proprietario prima dell'otto centrale da quell'oliveto prima produceva 25 quintali per ettaro l'anno scorso di olio l'anno scorso ho fatto tre quintali diciamo quindi di questo stiamo parlando stiamo parlando della speranza forse di poter mantenere in vita delle piante di affezione o di particolare valore paesaggistico l'olivicoltura competitiva ovviamente è un'altra cosa per chi deve fare reddito questo discorso non vale ovviamente di questa stasi se ne stanno avvantaggiando ancora di più le varietà con carattere di resistenza per esempio un impianto di leccino un impianto di favolosa che cosa è cambiato senza non registriamo nessuna mutazione nella popolazione batterica quello che invece è drasticamente cambiato negli ultimi anni è il serbatoio di inoculo che si ripercuota poi sulla quota della popolazione dei vettori che si infette che quindi può dare delle superinfezioni delle reinoculazioni dei bust alle piante che lì sono tutte già infette quindi qual è la spiegazione questa drastica riduzione massiva fatta dallo stesso batterio l'abbattimento di tutta una serie di oliveti precari mi dicevano l'impresa che sta facendo gli abbattimenti che sono almeno 3 milioni le piante che sono state già rimosse e quindi lasciate al momento o a terreno nudo o reimpiantate con varietà resistenti ahimè questo è un elemento negativo ma che tecnicamente contribuisce ulteriormente a ridurre l'osservatorio inoculo l'altra frequenza degli incendi in quella zona conseguenza dell'infezione di axiella come conseguenza dell'abbandono che aumenta il rischio incendi estivi a cui si aggiungono le misure dell'autorità fegiosanitaria del divieto di impianto di varietà o di germoplasma altamente suscettibile il che previene la ricostruzione di un ulteriore serbatoio di inoculo tutto questo come conseguenza è una drastica riduzione dei vettori infetti vi faccio vedere solo questa foto forse la più significativa come in due siti del focolaio primario dove nel 2014 e nel 2015 trovavamo 50, 60, 70 80% di sputacchini infette nel mese di giugno luglio questo è addirittura un caso estremo in questi due siti degli 80 sputacchini analizzati nessuno infetta è un valore che non ha un grande valore statistico però è un'indicazione di come ci sia questo fenomeno che ci fa pensare che probabilmente alla base di questa attenuazione della sintomatologia c'è un crollo delle superinfezioni delle re inoculazioni che sicuramente hanno un ruolo nello sviluppo della patologia sono tutte queste azioni alla fine stiamo vedendo che portano a questo miglioramento del quadro solo come conseguenza alla fine sono una conseguenza della riduzione dell'osserbatoio di inoculo e quindi del minore impatto degli insetti vettori tutto questo secondo noi va perfettamente in linea diciamo e va diciamo a giustificare a confermare il fatto che la strategia del controllo messa a punto delle autorità fitosanitarie va sostanzialmente nella giusta direzione e quindi a confermare il fatto che comunque è sicuramente importante mantenere elevata l'attenzione per l'applicazione di tutte le misure che tendono poi a soddisfare questi due aspetti due parole che sono state citate alla questione degli innesti dei sovrinnesti che è partita a rilento più per ragioni diciamo burocratiche che adesso sono state un po' snellite che peraltro questo è un esempio di un'azienda innesti che comunque noi suggeriamo di farsi come azione preventiva su piante ancora sane per dare la possibilità di sostituire la chioma suscettibile con quella infetta questo è un esempio di un'azienda di Fasano che ha fatto l'innesti a fine aprile dello scorso anno e un anno e mezzo dopo sono le stesse piante sovrinnestate con leccino dove come potete vedere diciamo la dignità della monumentalità della pianta può essere conservata e va bene andiamo avanti qualche parola o meglio qualche minuto qualche minuto sul due due allora sull'attività e allora saltiamo tutta la parte il preambolo sulla 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 resistenza cos'è come si manifesta eccetera eccetera però intanto è importante dire che anche la sostituzione con varietà resistenti impatta sulla sulla epidemiologia sul contenimento perché piante con carattere di resistenza che si infettano ma con poco batterio fanno crollare l'efficienza dei vettori nell'acquisizione e quindi nella trasmissione che cosa significa per esempio a livello microscopico che cosa avviene a livello di diciamo la differenza osservata osservata diciamo tra piante con carattere resistenza e piante infette quindi a sinistra vedete che in una pianta suscettibile il batterio nei vasi xilmarce ha la capacità di andare a degradare le pareti che separano un vaso dall'altro adiacente e fa sì che il batterio possa passare da un vaso all'altro e quindi colonizzare e quindi favorire poi il collasso del ramo mentre a destra vedete quello ciò che si osserva in leccino dove si forma piuttosto del callosio che va a un certo punto ad isolare il batterio mentre la parete cellulare che separa i due vasi adiacenti rimane intatta e quindi non si ha questo passaggio questo giustifica perché l'effetto sia molto più limitato cosa si sta facendo per incrementare la disponibilità di genotipi presistenti è stata fatta tutto uno screening che è in corso uno screening che alla fine di tutte le verità di una parte significativa di varietà già esistenti e purtroppo al di là di leccino è favolosa non è stato ritrovato altro che abbia delle caratteristiche di resistenza superiore al leccino ci sono ancora devo dire un paio di verità su cui si stanno terminando le valutazioni per i quali peraltro ci è stato chiesto un ulteriore approfondimento anche dalla parte del servizio per i sanitario su segnalazione di alcune organizzazioni di produttori speriamo in breve tempo di poter avere qualche notizia comportante in questa direzione mentre invece l'altro aspetto invece accennato dalla citata dal professor Composeo è la ricerca invece dei semenzali già presenti sul territorio che però ha un problema ossia che a differenza di una varietà già registrata che uno se la certifica come resistente la può già mettere nel circuito produttivo queste invece hanno tutti i limiti dalla tempistica richiesta che è pluriennale abbondantemente pluriennale per arrivare a punto ci sono stati tutta una serie di attività fatte di cui se ne è parlato anche in passato senza andare purtroppo non ho tempo per spiegare però sarebbe stato interessante dire qualcosa sul fatto che le analisi genetiche fatte su tutta un'ampia gamma di 140 semenzali che avevano superato la prima selezione la maggior parte di queste piante hanno come parentale il leccino questa dimostrazione del fatto di come non abbiamo tempo per entrare nei dettagli e che comunque al momento al termine di questa selezione sono state selezionate tre linee tre linee che sembrano fino ad ora soddisfare un po' tutte le non solo tutti i parametri non solo quelle di resistenza axilella fastidiosa e per i quali selezionate nel corso del progetto regionale Resixo per i quali adesso cioè da qualche anno ormai già da 3-4 anni è stato avviato un primo confronto sono state moltiplicate sono state piantate in quattro siti diversi si stanno osservando dopodiché l'altro programma invece che noi abbiamo avviato in collaborazione con i colleghi del miglioramento genetico dell'olivo di Perugia dall'ex istituto del professor Fontanazza per intenderci è quello di avviare un programma di miglioramento genetico in questa direzione e ovviamente ci sono i colleghi di Perugia che non molto tempo fa hanno pubblicato per esempio un elenco della compatibilità tra varietà diverse per cui da cui viene fuori che prima di avventurarsi ovviamente in un programma di incroci bisogna avere presente questo discorso di compatibilità e incompatibilità per cui per esempio il leccino può essere incrociato con l'FS17 ma non con la Frantoio come l'FS17 non può essere il leccino può essere incrociato con l'Oliarola con la Cellini con l'Arbosana con la Coratina giusto per citare quelle tra le più interessanti mentre l'FS17 può incrociarsi con il leccino con il frantoio ma non con quelli altri che ho citato prima e niente quindi io direi che soltanto concludere dicendo che però anche in questo caso come per i semenzali o ancora più che per i semenzali il tempo necessario per arrivare al traguardo è di non meno di dieci anni ma anche d'oggi quattordici anni questo è un po' scusate l'estrema sintesi no no grazie la ringrazio perché ha fatto veramente un miracolo siccome sto che stanno già muovendo per il convegno successivo proviamo a raccogliere una domanda se c'è dal pubblico a uno dei relatori qualcuno vuole intervenire i relatori sono comunque qua a disposizione se volete chiedere a loro io magari ne approfitto per rubo ancora due minuti chiedo al professor Camposeo se dal punto di vista dei nuovi impianti la meccanizzazione è ancora un po' lo scoglio più difficile da superare per quanto riguarda l'olivo una meccanizzazione integrale raccolta in particolare ci sono varietà le ha citato insomma le cino e la favolosa che possono essere interessanti però dal punto di vista della vigoria le cino sicuramente no la favolosa potrebbe andare un po' bene però insomma ha un portamento che non si presta al 100% e quindi questo può essere uno scoglio per chi volesse insomma provare la strada dell'alta densità o addirittura dei superintensivi prego lo scoglio sì sicuramente però voglio dire ci sono così tante opzioni che insomma chi volesse mettere le cino anche qui se l'obiettivo è queste sono soltanto alcune ipotesi alcune alcuni ventagli di offerte ma in realtà se l'obiettivo è per esempio il prodotto di vedamensa va benissimo le cino con l'impianto intensivo l'importante è raggiungere il reddito dell'imprenditore le strade sono tantissime il fatto che le cino non si adatte al superintensivo pazienza la faremo con la favolosa per ora quando poi saranno terminate le osservazioni dei colleghi patologi e aumenterà l'offerta della base e la geografica vedremo che cosa verrà fuori quindi lo scoglio non lo vedrei nella meccanizzazione ma proprio come dicevo prima nell'approccio all'olivicoltura di essere un approccio frutticolo come giustamente si sottolineava grazie dottor Boscia visto che è stato super sintetico le faccio una domanda c'è stata la quarta conferenza europea sulla xylella a Lione al di là del fatto che all'olivo ci vorranno dieci anni almeno per probabilmente venirne fuori salvo un altro paio di varietà che stanno sotto osservazione è emerso qualcosa di particolare da questa conferenza anche relativamente ad altre specie non lo so che possono essere colpite ma effettivamente diciamo novità rivoluzionari non ne sono emerse faccio un esempio per esempio è stata individuata gli israeliani hanno riferito dell'individuazione di una cultiva di mandorlo che da loro evidenza risulta essere resistente quindi anche nel mandorlo si sta lavorando in questa direzione ahimè non ricordo il nome della cultiva mentre dei ricercatori americani invece hanno parlato per esempio della loro hanno per loro fortuna in California non hanno la pauca però hanno voluto verificare in condizioni sperimentali l'eventuale capacità dei loro vettori che noi non abbiamo in Europa gli sharpshooter sulla loro eventuale capacità di poter essere vettori anche della pauca della nostra pauca e ahimè lo sono quindi questo un altro piccolo richiamo all'attenzione ad evitare che si possa introdurre che si ad evitare che possibili che si introducono questi altri insetti questi altri sharpshooter in Europa e in Italia perché questo andrebbe a complicare ulteriormente la situazione perché sono degli insetti vettori che ahimè che hanno capacità di volare molto elevata sono ancora più probabilmente devastanti invasivi di quanto non lo possano essere le nostre sputacchine questo è sostanzialmente grazie grazie dottor Boscia abbiamo rubato già troppo tempo al convegno successivo grazie per aver seguito grazie ai relatori speriamo che la regione riesca a superare anche questi ostacoli burocratici inevitabili perché abbiamo visto che comunque i soldi ne sono stati dati non è facile sfruttarli al 100% saranno stati commessi anche degli errori in questi anni per carità però non mi sembra che la situazione sia disastrosa insomma sono stati fatti dei progressi quindi un grosso in bocca al lupo all'olivicoltura pugliese e a chi continuerà a crederci nei prossimi anni buona giornata a tutti e buon proseguimento di fiera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti